ciao per oggi l'ho montato in questo modo è già unito infatti non si stacca e poi stavo creando delle altre cosette volevo creare per natale poi invece ho creato altre due cosine che non sono tanto natalizie ma diciamo sono più per halloween che per natale però ho fatto anche qualcosina che è per il natale devo finire di colorargli il viso perché non ho il colorante rosa però intanto ho fatto anche l'alberello che adesso sembra nero ma è comunque verde non riesco a farlo vedere con la luce che ho perché comunque da una resina trasparente perché io ho fatto la resina trasparente l'ho colorata a pennello da così l'ho fatta diventare nell'altro modo questo colorati i guantini ma si devono asciugare perché quelle li ho colorati in un altro modo e questo è il mio piccolo alberello di natale qui c'è il mio tattone il mio piccolo spy che non mi lascia stare ciao dici mamma mamma ciao a lì c'è il mio ultimo progetto che ho fatto l'uncinetto perché io non me che non mi lascia stare io voglio giocare io voglio giocare sì vai posso spegnere mi lasci spegnere me lo lasci spegnere il video spengo il video sì o no pego il video dimmi amore chiudo il video sì ok ciao alla prossima ciao